Torna in azione la banda del botto e ad Agugliaro sono subito dolori. Durante la notte i soliti ignoti hanno fatto esplodere lo sportello Bancomat della Cassa Rurale ed Artigiana di Brendola in via Zanella. Lo scoppio, avvenuto alle 3 e mezza, ha distrutto lo sportello e i ladri si sono portati via un bottino ancora in via di definizione. Sono in corso di definizione pure i danni causati dall'esplosione all'appartamento sovrastante all'istituto bancario, rimasto danneggiato in modo seppur lieve dalla deflagrazione. Gli autori del colpo se ne sono andati a bordo di una macchina non ancora identificata. Sul posto i carabinieri di Campiglia di Berici che hanno già acquisito i filmati dell'impianto di videosorveglianza per le indagini di rito.